Ragazzi, oggi proverò per la prima volta il desespugliatore. Allora, intanto ci siamo già praticamente preparati con le cose. Ci ho cuffie, ragazzi, che a me mi danno il rumore troppo forte. Poi abbiamo questa, che è importantissima, che è una maschera che ti protegge gli occhi, quando gli occhi, la faccia, tutto, il viso. E poi, vabbè, abbiamo il desespugliatore. Dai, ragazzi, ora me lo metto e andiamo su. Allora... È molto leggero, ragazzi. Lo devo legare qui. Portiamo sulla roba. Perfetto. Andiamo. Andiamo su. Sento un Ghostbuster. Un Ghostbuster! Non è neanche tanto pesante. Non è neanche tanto pesante. Sento un Natale. Ok Grazie Accendiamolo Parte subito lì Aspettate Ma se schiaccio dov'è che parte? Con quale? Quello sopra e quello sotto? Questa è una sicura e quindi hai capito? Ma se non schiaccio quello rosso non va? No Quello devo tenere Così? Aspetta eh, sennò fai fatica Aspetta un'altra Faccio un'altra Io lo devo tenere? Questa è la mia mano qua Così, esatto Dove? Inizio là Filippo devi fare così, guarda Dove vieni? Lo so, lo so Sì Che bravo decispugliatore che so Questa è la mia mano qua 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 Labre Ma va bene così o troppo? È troppo poco Ma è troppo poco Troppo poco ma devi tutto pelare così qui sembra il cane che abbiamo visto ieri con dei pezzi lunghi via via oh questo è buono questo si può mangiare cos'è? è uno sparago assomiglia a un asparagi è lupolo ma è buonissimo si fa la birra con quello bravo, vuoi mangiare te? no ora muore perché guarda un altro ma questo è un asparago guarda comunque fai un botto fatica con l'avambraccia a tenerlo su questi non sono asparagi però ottimi ragazzi vai vai continua ora vai a meglio Gino un po' più basso se la fai va bene ma stai facendo la perata al terreno bravissimo va benissimo grazie a tutti grazie a tutti ora li proviamo a far tagliare anche un po' le rage filo 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 ora prova qui non avvicinarti tanto e fai da alto verso il basso ma non troppo dentro perché sennò si si bravo vai prova al massimo vai 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 hai il power che mi pista una razza d'olio eh si ma infatti sei protetto vai ma che protetto vai vai oh un po' male si deve fare ecco troppo là eh si va bene lo facciamo rifare dai lo rifaremo lo rifaremo dai finisci di tagliare quando vedi che il filo si è accorciato ci devi dare un colpo esatto quando è in movimento ci dà il colpo una volta solo e lui si allarga lo devo fare ora? si si perché è colpo accelera e fallo vai ok vai 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 eh si è la centrifuga vai ti vanno i sassi sulle gambe eh certo una volta mi si era impiantato un chiodo sentiamo le sue impressioni bravissimi bravissimi sentiamo le impressioni dai spingi tutto ti va giù allora sentiamo allora allora è faticoso cioè tutto dimmi devi dire tutto oh l'hai usato sei cinque minuti alla fine vai dimmi tutto allora pensavo che si faticava di più eh certo cinque minuti è che cioè fatichi qui tanto sull'avambraccio va bene va bene ma poi dopo ti faccio te lo faccio fare io cinque minuti lo moltiplichi per venti sono già cento minuti vai 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 parla dai diamo tutte le tue impressioni è stato faticoso ammazza come mi è piaciuto quasi quasi lo rifascio tutti i pomeriggi no no è stato bello non so che ci devo dire niente si è divertito un sacco ve lo dico io ragazzi comunque il lavoro allora per essere la prima volta dai va bene eh e vabbè ragazzi non sei mica nato non sei mica nato con il decescugliatore no va bene va benissimo va benissimo ok quanto ho preso di voto? 8 meno è bene ragazzi va bene è bello è bello dai ragazzi mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscriviti al canale mi raccomando lasciate un super grazie si poi ve lo facciamo riprovare quando è più esperto non sono più esperto dai ciao raga grazie a tutti